Una disparità di trattamento tra i lavoratori dell'USDRA e quelli dell'USRC, i due uffici speciali per la ricostruzione, il primo dell'Aquila e il secondo del cratere. Disparità perché 12 lavoratori dell'USDRA si sono ritrovati, si legge in una delibera, con la proroga dei contratti soltanto di 15 mesi, a differenza di quelli dell'USRC che la hanno sino al 31 dicembre del 2025, come stabilito peraltro in legge di bilancio. Per i dipendenti USDRA invece la scadenza è il 31 marzo del 2024. La proroga più lunga sarebbe stata utile per loro anche per rientrare nel discorso stabilizzazioni. Abbiamo chiesto certamente dei chiarimenti al Comune dell'Aquila e all'ufficio dell'USDRA per comprendere le motivazioni che hanno portato a questa disparità di trattamento. Abbiamo fatto due note a partire da gennaio, una di una richiesta di incontro segnando il problema a tutti e due, sia all'ufficio USDRA che al Comune, un sollecito poi a metà gennaio. Ma rispetto a queste due note, mentre dall'ufficio dell'USDRA abbiamo avuto la disponibilità di un incontro al fine di spiegare le motivazioni e trovare anche una soluzione al caso, anche perché il 2024 è vicino e questi sono dipendenti altamente specializzati che si occupano della ricostruzione e dell'attuazione del PNRR, in assenza dei quali potrebbero esserci anche dei riverberi nei confronti di avanzamento delle pratiche di ricostruzione o di recepimento del PNRR. Quindi mentre da Provenzione abbiamo avuto la disponibilità ad un incontro, la stessa cosa è avvenuta dal Comune dell'Aquila, che nonostante le due note non ha proprio risposto né dichiarando essere disponibile ad un incontro, ma nemmeno magari a illustrare quali sono state le problematiche che l'hanno portata a fare una firma al 31 marzo 2024 invece che al 31 dicembre 2025.